Non tutti i genitori hanno strumenti conoscitivi per sostenere i figli in questo momento così complesso. Non tutti sono a casa con loro perché magari lavorano nei settori che avete considerato essenziali. Senatore Renzi, scusi, sento solo la sua voce. Questa evidenza dà luogo a una disparità nel diritto allo studio.